Buona domenica a tutti, oggi è il 22 settembre della 25esima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo ci presenta un problema importante per la comunità di Luca. Luca lo pone proprio come un problema serio ed è il problema dei soldi, delle ricchezze. Forse, dicono alcuni studiosi, perché la sua comunità era davvero molto ricca e anche forse giustamente incapace di gestire i beni materiali in modo cristiano. Però grazie a questa negligenza possiamo imparare anche noi questo atteggiamento cristiano di come vivere la ricchezza e gestire il denaro. Gesù dunque racconta una parabola in questo Vangelo eseguita da alcune sue esortazioni sempre su questo tema. La parabola in breve racconta di un uomo ricco che aveva un amministratore accusato di sperperare i beni del padrone. Non si dice se queste accuse siano vere o false, però una cosa è certa. L'amministratore si trova nei guai, deve rendere conto della sua gestione. Così, come potremmo fare anche io e te al suo posto, comincia a pensare a qualche soluzione. Non ci stupisce che gli vengono in mente solo due possibilità, o zappare o mendicare. Certo, vedremo che non sono proprio delle soluzioni ottime, nemmeno ottimiste, però forse anche noi quando siamo davvero nei guai pensiamo sempre a delle soluzioni insomma un po' non adatte. Ecco, però a un certo punto questo amministratore trova una soluzione, chiama le persone che sono in debito col suo padrone e falsifica i dati del debito dovuto diminuendo il debito a tutti. Ecco, Gesù elogia questo amministratore anche se lo chiama disonesto giustamente. Cerchiamo di capire perché Gesù elogia questo comportamento. Nel testo, per chi conosce bene la cultura ebraica, c'è evidente il richiamo alla fine dei tempi, al giudizio finale. Innanzitutto si parla di un padrone a cui si deve rendere conto, un tempo che è stato dato all'amministratore per gestire la situazione. Appare poi nel testo anche la ripetizione per tre volte del termine mammonà, che in italiano noi traduciamo con disonesta ricchezza, ma è traducibile anche come il termine ingiustizia. Ecco, questi elementi ci fanno pensare che nel garantirsi un futuro, in quel poco tempo che gli rimane, questo amministratore, tratta il denaro come qualcosa da gestire per salvarsi la pelle. Ecco, e cerca innanzitutto di farsi degli amici con il suo modo di gestire i soldi. Praticamente la cosa bella che fa questo amministratore è usare la ricchezza in funzione del padrone, cioè di Dio, che appunto è figura di Dio, a cui ogni conto prima o poi dovrà tornare. Impariamo allora una grande verità, è per tutti noi cristiani, che per i cristiani i soldi sono un'opportunità per amare di più, per entrare nel cuore, nella vita delle persone, soprattutto le più povere, per dare loro dignità, libertà, nuove possibilità. Per chi vive il Vangelo, anche i soldi e la ricchezza sono una questione di cuore, perché il cuore nella Bibbia è il luogo della coscienza, dove ci ricordiamo di essere fedeli alla chiamata che abbiamo tutti, di essere figli della luce, destinati all'eternità. Allora oggi ringraziamo Dio che ci riunisce tutti in questa domenica per ricordarci proprio che siamo figli della luce. Preghiamo che questo ricordo, questa celebrazione, non permetta che ci lasciamo comandare nella nostra vita quotidiana dai soldi, dalle ricchezze, perché questo ci uccide, ci isola dalle relazioni vere, ci toglie la libertà, ci impedisce di vivere la gioia. Chiediamo invece al Signore che il suo Santo Spirito ci renda abili nelle cose che riguardano il Regno di Dio. Gesù dice proprio scaltri, perché alla fine, quando non potremo più comprare nulla con i soldi che guadagniamo, ciò che resterà non è il tempo che avremmo perso stando seduti a piangere sui nostri sbagli e sbagliando ancora di più, utilizzando i nostri soldi in questo lamento, ma è quello che avremmo guadagnato cercando delle risoluzioni per farci amare da chi non è amato, proprio come ha fatto questo amministratore. Dal Vangelo II Luca, capitolo 16, versetti 1-13, in quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli, un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse, che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé, cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho forza, mendicare mi vergogno, so io cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo, tu quanto devi al mio padrone? Quello disse, 100 barili d'olio, gli disse prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro, tu quanto devi? Rispose, 100 misure di grano, gli disse prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lo dò a quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà a quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.